Ciao a tutti ragazzi, io sono Mindforce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati su Five Nights at Freddy's, buona visione. Quinta notte, siamo alla quinta notte raga, qui veramente non sopravvivremo, ve lo dico già. Qualcuno sta parlando al telefono ma mi sa che è un animatronic che sta parlando. Oddio, mutiamo la chiamata, mi stava già terrorizzando. Qualcuno è in cucina? Questa è Chica. Per favore te ne vai invece di guardarmi così? Freddy raga, quello è Freddy. No 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 no, no 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 no, ma se ne è andata questa? No raga, Chica per favore, madonna mi sta facendo consumare troppa energia. Se ne è andata, se ne è andata, perfetto. Bonnie è lì, Chica si è allontanata. Freddy è qui. Stiamo attenti a Foxy. Foxy è pronto a correre, manco fosse una maratona. Oddio, Bonnie! E ora rimane dieci minuti lì prima di andarsene. Bravo Bonnie, bravo. Oddio raga! Vado a Foxy, vabbè, trova la porta chiusa. Oddio raga! Freddy è in cucina? Raga, non capisco se è Freddy a fare la musichetta, però mi sa di sì. Non so, confermatemi nei commenti perché sono curioso. Se ne sono andati di qua, sì? Oddio, la risata di Freddy raga, già alle due di notte, non promette bene. Ok, Freddy si è allontanato o è Bonnie questo? Non riesco a riconoscerli a volte. No, penso più sia Bonnie. Mio Dio raga, 48% di energia è rimasta e non sono neanche le tre. Oh, questa è Chica? Sì! Oddio, oddio, l'ho sentita all'ultimo. Se ne è andata? Che è? Perché non posso chiudere la porta? Raga, che... Madonna, raga. Però perché non mi ha fatto chiudere la porta? Sapevo che c'era qualcuno. No, ma che bastardo di gioco. Veramente, veramente. Madonna. La pelle d'oca. Ho bisogno di un attimo di pausa. E comunque non ho ancora capito perché non si chiudeva la porta. Vabbè. Raga, io direi di controllare principalmente Foxy. Bonnie e Chica li potremmo controllare direttamente da queste luci, senza controllare le cam. Quindi noi controlliamo solo Foxy, perché secondo me questo è un buon trucco per risparmiare. Aspettate però, Freddy, fatemelo cercare perché potrebbe essere pericoloso. Non vedo Freddy. Ok, è l'una di notte e stiamo a 82% di energia rimasta. Ho sentito un'altra risata di Freddy, raga. Ma dov'è? Aspettate. Eccolo, eccolo lì. Oddio, oddio. Foxy? Foxy, raga, sta per prendere uno sprint e ci farà cacare sotto. Freddy è ancora lì. Raga, se procediamo con questo passo probabilmente ce la possiamo fare. Bonnie? Ok. Dov'è Freddy? Raga! Scusate, dov'è Foxy? Oddio! Madonna, raga. Foxy, non ti vedo. Foxy, sei tornato a posto? Raga, Freddy sta in cucina? Non ne sono sicuro. C'è Chica. Raga, non si può chiudere la porta. Sono morto. Perché non si può chiudere la porta? Scusate. Si inceppa il sistema? Perché? Perché? Non riesco a capire. Forse il gioco capisce quando accendo troppe volte la luce. Spero non sia un bug mio. Altrimenti, raga, sono fritto. Ora iniziamo a dare uno sguardo. Uno sguardo veloce. Sono ancora tutti a posto. E questo mi fa piacere. Freddy ha riso. Raga, Freddy sta ridendo un po' troppo. Dov'è? Eccolo. Raga, Foxy è prontissimo. A sfrecciare. Maddo, che cavolo di ansia. Bonni. Bonni, bonni, bonni. Dai, fai il bravo, fai il bravo. Se n'è andato. Oh, chica. Se n'è andata? Ok. Ah, raga, ma volete vedere che forse la porta non si chiude ad un certo punto? Oh, chiudi? Perché faccio troppo uso dell'energia. Potrebbe essere. Se n'è andato? Vai. C'è qualcuno? Oddio, Foxy! Madonna. Terrificante, veramente. Oddio! Ma questo è... È Freddy? Devo guardarlo. Devo guardarlo. No, 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 no. Freddy, per favore. Freddy, per favore. Freddy, fai il buono. Per favore. Non mi sto facendo prendere da un'ansia, raga. Quest'ultima notte è veramente orribile. Foxy si è risvegliato. Ma Freddy rimane lì fisso ormai? Oddio, bonni, bonni. Se n'è andato? Freddy? Ma non se ne va più, raga. Non capisco. Vabbè, finché rimane innocuo, a me va bene. Aspettate. Oddio. C'è troppo movimento. Sta succedendo qualcosa. Chica. Vado, Chica. Mancavi solo tu. Oh, no, 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 raga. C'è qualcuno. Freddy, dove è finito? Freddy. Raga, dove è finito Freddy? Non lo vedo. Raga, non lo vedo. Se n'è andata, Chica? Ok. Freddy, ti supplico, Freddy. Bonni. Ci si mette anche Bonni, ovviamente. Se n'è andato già? Ok, vai. Uh. Ma, raga, c'è qualcuno. Ho sentito dei passi pesanti. Ma dove è Freddy? No, raga. È vicinissimo. Eccolo. Madonna, madonna mia. Sono le 4 di notte e sto a 20% di energia. Oddio. Chica. Ma perché mi dovete far consumare energia inutilmente? No. Foxy. Vaffanculo. Chica, te ne vai? Eh, raga. Sto all'11% di energia è rimasto. Non se ne va, Chica. Ma dove è Freddy, raga? Dov'è Freddy? Raga, non c'è Freddy. Se ne è andata Chica? Ok. Non ce la farò mai. Sono morto. Sono bello che è fritto, raga. Eh. Ci si mette anche Bonni. Sta ancora lì, raga. Sono morto. Che palle, veramente. Potevo farcela, però. Eh, stavolta mi sa che non mi salva il tempo. Ne dubito fortemente. Vabbè, godiamoci quest'ultima canzoncina prima del jumpscare. Che già sta arrivando. Vabbè, raga. Dai, vi accolgo. Ma perché nonostante io me lo aspetti, mi fa sempre cacare sotto? Veramente, questo gioco crea danni psicologici. Devo conservare energia. Come cazzo faccio? Allora, raga. Io rimetto il timer, ma questa volta di un minuto. Voglio vedere se per un minuto riesco a risparmiare energia. Cosa che dubito fortemente, però. Ci provo. Mancano 50 secondi. 40 secondi. 30 secondi. No, raga, devo controllare. Vedete, Foxy già sta in azione. Quindi un minuto intero è quasi impossibile rimanere senza controllare. Oh, 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 oh. Vedi? Chica. Chica Monella. Oh, anche Bonnie. Wow. Se n'è andata. Raga, Bonnie non se ne va. Ah. Raga, dov'è Freddy? Io non lo so. Mi sto solo suggestionando. Vedete, questo è il motivo per cui non ho mai portato Five Nights at Freddy's. Troppo terrore, troppo. No, raga, allora io faccio veramente questa sfida. Rimango un minuto senza controllare nulla. Stiamo a 50 secondi. 40 secondi. Raga, sento già dei passi. Eh, vedete? No, allora non si può rimanere. Veramente, ho fatto anche un secondo test. Avete visto? Non si può rimanere per un minuto senza controllare. Se n'è andato Bonnie. No, raga. Ma che è? Mi sta glitchando il sistema? Raga, va tutto bene. Cazzo, Bonnie. Se n'è andato. Raga, sta arrivando Foxy. Ok. Bonnie. Raga, non funziona la porta? Non funziona la porta, raga. Non funziona la porta. Avete sentito la mia voce tremare? Perché mi sono caccato sotto, però internamente. Mi sono caccato sotto internamente. Allora, devo stare bello rilassato. Ok. Ora, se Bonnie e Chica mi danno una mano e non si mettono tra i piedi. Io forse ce la faccio. Eh, come non detto. Eh, Chica. Dai. Se n'è andata. Ok. Bonnie di nuovo. Raga, che dobbiamo fare? Bonnie, te ne vai? Per favore. Raga, non se ne va Bonnie. Ah, Bonnie se n'è andato. Raga, non trovo Freddy. Mi sta preoccupando questa cosa. Bonnie. Eh, raga, non se ne va più Bonnie. Madonna. Sono le quattro, raga. Ce la posso fare. No, raga. Ok, eccolo qui. Sono al 10% e sono le 5 di mattina, raga. No, Chica. Mi fai consumare energia. Se n'è andata. Raga, ce la posso fare. No. No, raga. Sono morto. Sono morto, raga. Oddio, forse il tempo mi può salvare stavolta. Ti supplico. Eh, io non controllo ora. Devo risparmiare. No, raga. Questo è Bonnie. Non funziona? Perché non funziona? Raga, non funziona perché... Ma perché non funziona? Io non capisco. Forse non devo guardare le camere di sicurezza. Ma devo semplicemente attendere che magari lui se ne va. Però è impossibile se la porta non si chiude. Lui per forza entra. Raga. Non si chiude la porta. Vai, Bonnie. Sono tutto tuo. Non so, è un bug, forse. Ma perché non va? Madonna, raga. Vaffanato. Eh, ho capito però. Vaffanato. Questo gioco se non si fosse capito mi ha rotto le palle. Raga. Ok, ho visto tutti. C'è qualcuno. Infatti, lo sapevo, lo sapevo. Reddy si sta spostando, mi sa. Sì, si è spostato. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Bonnie, ovviamente devi farmi sprecare energia. Non se ne va, raga. Cioè, io potevo arrivare alle 3 di notte con ancora il 50% di energia. Per colpa di Bonnie non posso. Raga, neanche arrivano le 3 di notte, vero? Ah, ora sono arrivate. Con il 43% di energia residua. Eh, vabbè, raga. Bonnie, però, troppa energia mi fa consumare. Troppa, troppa, troppa. Ma dov'è Freddy? Ok, Bonnie se n'è andato? Quando me lo vuoi dire? Raga, quando diventano le 4, troppa poca energia. Ma do Bonnie questa notte che ci tieni? Che rendetevi conto? Chica non si è mostrata una volta, come ne ho detto. Non si chiude la porta. Vai, spaventatemi. Spaventatemi. Ma in base a cosa si bloccano le porte? Vorrei capire, Watson. Ok, raga. Ora faccio una cosa. Mi mantengo su questa camera. Così, da non far muovere Freddy. E ogni tanto devo solo stare attento a Foxy. In teoria, facendo così, Freddy non dovrebbe muoversi da quella postazione. Per quello che ho paura di sprecare troppa energia. Vedete, ora Bonnie se n'è andato. Ma Freddy è ancora lì. Guardiamo solo ogni tanto Foxy. Foxy è ancora a posto nel suo stand. E poi raga, è incredibile. Sembra di star consumando meno energia del solito. Nonostante sto controllando praticamente tutto. Freddy mi sta guardando. Ora non più. Avete visto? Foxy non si sta muovendo ancora. Quindi non è un nostro problema al momento. Chiudiamo. Ok. Foxy è ancora lì a posto. Ma raga, oddio. Siamo attenti a Freddy. Per sbaglio mi è sfuggito. Cica, 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 cica. No raga. Si sta spostando? No, no, aspettate. Sto perdendo il controllo. Ok, no, tutto bene. Tutto bene. Sono tutti ancora al loro posto. Controlliamo Foxy. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Oh, Bonnie. Non fare scherzi, per favore, Bonnie. Bonnie, manchi solo tu, per favore. Ma dov'è Freddy? Raga, non trovo Freddy. Scusate. Scusate. Ok. Freddy è ancora lì. Chica è con Freddy. Foxy non si è ancora svegliato, raga. Vedete? Quindi, anche se lo guardo per un secondo, Freddy rimane lì. Raga. Sono le 5 di notte e sto al 20%. Oddio, se non ce la faccio stavolta veramente mi incazzo di brutto. Oddio, Foxy si è svegliato, raga. Dobbiamo tenerlo d'occhio. Madonna, raga. Veramente ce la sto facendo? Veramente, veramente. Oddio, non ci credo. Dopo un'ora di torture forse è arrivato il momento. Oh, c'è qualcuno. Aspettate. Uh, chica, chica, per favore. Ok, se n'è andata. Raga, potrei avercela fatta, raga. Dai, non arriva più l'ora. 10%. Per favore, per favore, per favore. Vado, ti supplico, ti supplico, ti supplico. Dai, ce la devo per forza fare. Lì ho in pugno. Vado, chica, vattene. Chica, vattene. Chica, vattene. Cosa mi combini? Chica? Ok, se n'è andata. E c'è l'ho fatta. Sì. 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 Oddio, raga, non mi sembra vero. Va bene, ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e un commento. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.